E' terminata con un bilancio più che positivo in termini di presenze della Fieri di San Martino che si è svolta a Piedimonte Matese il 10 e 11 novembre scorso e che da decenni rappresenta un appuntamento al quale è difficile rinunciare. Numerosissimi anche quest'anno, dopo la sossa forzata dovuta al Covid, gli espositori, circa una ottantina, che hanno piazzato le proprie e bancarelle in buona parte della città. Espositori giunti da ogni parte della regione, da quelli classici che vendevano torrone e caramelle per la gioia dei bambini, all'oggettistica, dalla ferramenta con i vecchi attrezzi dell'agricoltura all'abbigliamento. Presente anche Coldiretti con i suoi stand, ma non è mancata la gastronomia. L'evento voluto dal comune di Piedimonte Matese delle associazioni di categoria, secondo una prima stima, il bilancio delle vendite sarebbe da definire ottimo per i commercianti locali e quelli venuti da tutta la regione. Insomma, i prezzi in forte aumento in ogni settore e la crisi economica, che si fa sempre più pressante, non hanno tenuto lontano dall'evento organizzato in due giorni. Le migliaia di persone giunte dei comuni dell'Alto Casertano e non solo, sia per tradizione che per curiosità. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it